Bonofè, qual è il modo per l'Italia di presentarsi bene in Europa ma anche di ripartire? Accelerando il processo di riforme messo in campo dal governo Renzi proprio in questi giorni. Riforme che riguardano più settori, riguardano il mondo dell'occupazione, il mondo del lavoro, perché non ci dimentichiamo che abbiamo un tasso di disoccupazione in generale, di disoccupazione giovanile in particolare, che grida vendetta. Ma anche riforme per rilanciare il consumo interno, per rilanciare la crescita. Ecco le misure per esempio per mettere in tasca degli italiani 80 euro in più a fine mese per 10 milioni di italiani. Riforme che riguardano anche le istituzioni, perché dobbiamo rendere più moderne le istituzioni del nostro paese. Questa è la ricetta che noi vogliamo mettere in campo e che dobbiamo mettere in campo il prima possibile per far tornare l'Italia ad essere una nazione che compete nello scenario europeo ma anche mondiale.